c'è stato un po' più grande per l'appointe Io mi sono andato Ehi, vedi che la prossima volta... Non ci sarà una prossima volta, meglio fare attenzione Meglio fare attenzione, siamo arrivati alla seconda stagione Questo è il primo episodio, primissimo episodio della seconda stagione La prima stagione è cominciata con un elemento politico Con l'ex senatore Antonio Razzi E non potevamo cominciare la seconda stagione Sempre con una persona di spicco, con una figura di spicco della politica italiana Con Mino Monaco, Giorgio Roma Oggi è meglio fare attenzione, nel primo episodio della seconda stagione Abbiamo Alessandra Mussolini, ciao Alessandra Ciao, ciao, bello, meglio fare attenzione Perché qua puoi sempre stare in campana Alessandra, come ti senti a essere la seconda ospite politica Dopo Antonio Razzi? È un onore? Antonio Razzi è stato il mio compagnuccio di banco Quando stavamo nel PDL Quante rizzate che mi sono fatta Su quello senza... non ho dubbi Cioè, era una cosa che non ci si poteva credere Soprattutto durante gli interventi Che lui scriveva, eh Gli faceva proprio lui, di suo pugno E il problema è quando doveva leggerli poi Eh vabbè, ma lui perché era... aveva lavorato in Svizzera, capito? Quindi... Certo Allora, cominciamo subito Alessandra La tua carriera, l'inizio della tua carriera È stata costellata da tantissime cose Soprattutto nell'ingresso nel mondo dell'arte Che poi... di cui poi ne parleremo insomma Ma quanto è pesato all'inizio della tua carriera il cognome? Ma non pesa il cognome Il cognome pesa quando tu ne fai un fatto Che non lo riesci a gestire Io ci sono nata, quindi per me è la mia pelle Non è che pesa o non pesa È qualcosa che ti fa capire chi hai davanti Se c'hai davanti gli imbecilli Li capisci molto bene Quindi diciamo che ti avvantaggia Ah, quindi hai inciso positivamente Hai inciso positivamente, sì Perfetto Allora, hai cominciato con l'arte Hai inciso un disco in Giappone Hai posato per Playboy Almeno questo, insomma, quando eri già più ragazza Quando la bambina addirittura hai recitato nei film Con tua zia e così tutto il resto Ho fatto di tutto Mi manca fare... ho fatto tanto Perché nella vita uno deve fare le cose che sente di fare Poi tu dici potevo non farlo, potevo fare Ormai le fate e fa parte del tuo bagaglio Ma nella vita uno si deve anche buttare Deve avere coraggio Quando ho fatto ballando non ci pensavo proprio Ho detto ma adesso che mi metto a fare Ho paura di farlo Perché mi faceva... mi dava un po' d'ansia di fare ballando Devo dire la verità Perché era una cosa che non avevo mai fatto E poi però ho detto E poi se non lo faccio magari rimango col rimorso La cosa lo potevo fare e l'ho fatto Bisogna fare tutto Perché come si dice in napoletano La vita è numorsa Cioè è breve È intensa Quindi la devi vivere a tutto tondo E di tutto ciò che hai fatto C'è qualcosa che hai preferito Che ti ha lasciato di più? Ma ho fatto teatro con Edoardo De Filippo Tante volte la politica Quando abbiamo fatto la battaglia delle amministrative Contro Antonio Bassolino a Napoli Ed è stata un'esperienza fantastica Perché la politica era completamente diversa Adesso è bruttissima C'è un sacco di gente che è un protezzo È banale Quindi prima erano tempi diversi Qualcuno dice la prima repubblica Però con la prima repubblica C'era gente che almeno aveva un certo criterio Adesso c'è poca roba Alessandra ma lei si è mai sentita costretta A prendere la carriera politica O è stata un'inclinazione naturale? Perché comunque lei è partita con il mondo artista Come ho detto prima Incisione di dischi, teatro No, non è stata un'inclinazione naturale Devo dire che mio padre Romano Fu che mi, diciamo Mi disse Ma perché non andiamo all'epoca? Pensa Da Gianfranco Fini Quindi non è stata una mia scelta Io mi interessavo Però ad esempio Quando facevo Quando mi sono laureata in medicina Io non avevo minimamente Intenzione di fare politica E poi E poi capita Quindi è andata così Bene Fu mio padre Romano Ho capito Entrando in politica E quindi entrando nella famosa stanza di bottoni Dove si decidono Dove si decidono le cose Ha mai subito in maniera Pesante e critica Il fatto di appartenere a una determinata Area Area politica E soprattutto Lei che sicuramente Conosce bene Il fascismo Al momento Nel 2024 C'è una reale paura Uno spauracchio fascista Oppure possiamo stare tranquilli C'è paura del covid Non c'è paura Perché io credo che ormai Noi abbiamo superato La gente a talmente tanti problemi Viviamo costantemente Nell'incubo delle guerre Delle cose Quindi io penso che Quella che è stata la storia È stata la storia Che appartiene a tutti Nel bene Nel male Appartiene a tutti Fa parte del nostro Bagaglio culturale Io vedo delle volte I palazzi Qua io c'ho vicino Dove abito io a Roma I palazzi Federici Che sono dei palazzi D'epoca Popolari Che vennero costruiti Durante il fascismo Non solo quelli E hanno tolto I fasci Hanno tolto Era fascista Ma a che senso ha Tanto ci sono Allora li volete togliere Abbatteteli Cioè voglio dire La storia Appartiene a tutti Poi ognuno è libero Di avere il proprio credo Ma soprattutto Con il massimo rispetto Devo dire la verità Io Penso che il rispetto Ci sia poco Il pregiudizio Ancora tanto Ma su tanti fronti Quindi dobbiamo ancora Migliorare Su molti punti Ma poi Una curiosità Perché poi Questa è sempre È sempre stato Un cavillo mio Da quando l'ho letta Ma si è chiarita Con Jim Carrey? No Quello Jim Carrey Non lo so Che gli è successo Forse voleva avere Una botta Di pubblicità No perché Per chi non lo sapesse Jim Carrey L'aveva attaccato Non sono chiarita Con Jim Carrey Ma me lo sono pure Dimenticata No non me lo so Non mi sono chiarita Ma Jim Carrey Poveraccio Anzi poveraccio Quello c'ha Incredibile Quello sicuramente Però è incredibile Che lei le abbia dato Del bastardo E lui non l'abbia Minimamente replicato Perché evidentemente È andato fuori Dal seminato Diciamo così Esatto Allora Adesso Cambiamo argomento Lei ultimamente È stata Molto addentro Alle dinamiche Di parità di genere Femminismo Comunità LGBT Secondo lei Siamo giunti A una parità di genere Siamo giunti A una parità sostanziale In cui uomini e donne Hanno gli stessi Privilegi Hanno Le stesse Capacità di esprimere Qual è il problema Secondo lei? Assolutamente no Io credo Che ancora Ci siano Poi tante Tante situazioni Che rimangono così Io Io punto Soprattutto sui giovani Perché io vedo La netta differenza Tra la mia generazione E quella che sono i ragazzi I ragazzi sono molto più pronti È vero Non tutti Però moltissimi Sono più pronti Non hanno Queste Queste distinzioni Di genere Queste cose Che No Sono molto Hanno molta Più serenità Di giudizio Rispetto a molti adulti Tante cose Possono accadere Anche quello che è successo Io stavo riflettendo Adesso a voce alta Sulla vicenda Di San Giuliano Della collaboratrice Sì collaboratrice No C'era la foto Di lei in costume Cioè ancora La donna Delle volte Sempre Deve essere sempre Ricondotta Ad un cliché Quanti uomini Sono col costume Eppure non gli frega Niente a nessuno Se hai il costume Da bagno Allora significa Che tu hai Una certa Tendenza Cioè Troppa formalità Nel giudicare Le persone E invece Bisognerebbe andare oltre Io quando Io ho fatto la battaglia Per inserire la X Nel Parlamento Europeo Nei documenti Perché Perché secondo me Quando tu hai Un visto Un passaporto Di servizio È molto più importante Sapere Se sei uomo Donna Di che sesso Ti senti Io preferisco Sapere Di che gruppo Sanguigno sei Perché se ti succede Una cosa È il gruppo Sanguigno Non è che dicono Dio Questo è Sesso Qua maschio Femmine O altro Cioè Io posso anche Non risponderti La mia sessualità Noi siamo Troppo in Italia Morbosamente Coinvolti Nella sessualità Cosa che invece È marginale E quindi invece Tutta la polemica Tra comunità LGBT E per esempio Utile in affitto Lei come Come si pone Su questo punto di vista Per esempio Utile in affitto Io mi pongo Col fatto che Quando ci sono Delle problematiche Che sono Problematiche Legate magari A un'infertilità Di coppia severa A malattie genetiche Che possono capitare Perché nella vita Puoi essere anche Diciamo Sfortunato Ad incontrare Un compagno Che ha una Malattia Genetica A omozigote E quindi insieme Non potete avere figli Allora Chi sei tu Per dire Tu non dovrai mai Avere dei figli Perché la maternità Surrogata Molti non lo sanno È frequente Soprattutto nelle coppie Eterosessuali Non nelle coppie Omoaffettive Perché? Perché ci sono Tanti problemi Donne che magari Hanno avuto Un tumore Alle ovaie O all'utero Non possono più Generare dei figli Ma al di là Al di là Delle problematiche Al di là Delle problematiche Reali Sono favorevole Anche una coppia Omosessuale Con il desiderio Sono favorevole Sono favorevole Perché l'importante È dare amore Perché tu vedi I bambini In queste strutture Che sono degli orfanotrofi Buttati Poverini Li ho visti io Che addirittura Si fanno Hanno la pipì addosso Perché hanno le ansie Perché vengono trattati mai Perché li devi far vivere Non lo possono essere adottati Da una persona Da due persone Che problema c'è Ma perché Quante volte Un bambino Una bambina Vive con genitori Separati Vive con un unico genitore Quando c'è l'amore Ci sono certe coppie Eterosessuali Se ne combinano Di tutti i colori Le stragi Succedono Quindi Non facciamo I duri e puri Ma l'amore Supera ogni cosa Quindi eliminiamo Il concetto Della famiglia tradizionale Famiglia essenzialmente La famiglia non c'è più La famiglia tradizionale C'è per scelta Cioè se tu Hai Questa inclinazione Hai la famiglia tradizionale Ma ci sono tantissime famiglie Che sono Nuclei Che sono Una comunione Di affetti Una comunione Di affetti Perché io voglio ricordare Che all'interno della famiglia Ci sono gli individui Perché c'è la famiglia Come concetto astratto Nella famiglia La famiglia è composta Da più individui E i diritti Devono essere individuali Non della famiglia Io sempre Mi sono sempre battuta Su questo Già dall'inizio Della carriera Cioè A più B Non fa C E tu difendi C C è uguale ad A Più B Cioè tu devi difendere All'interno Della famiglia Le persone Che sono più fragili Spesso e volentieri Sono i bambini La polemica Che è uscita Nelle ultime settimane Per quanto riguarda San Giuliano Quindi sei stata anche Intromessa la moglie Dell'ex ministro Eccetera eccetera Per un'ala politica Che fa della famiglia Tradizionale Un proprio vessillo Che si fanno porta bandiera Questo non è un duro colpo? Il duro colpo È già stato superato Perché ormai Diciamo Tu devi avere Un comportamento corretto E nella politica Devi solo fare leggi Che possono lambire Che possono arrivare Fino a un certo punto Ma non andare E dentro i letti Della gente Cioè fatevi fatti vostri Ognuno Ha la propria visione Il proprio sentire E devi rimanere In un sentiero Di correttezza Di rispetto Dell'altro Punto Non è che bisogna fare Delle leggi Per le quali C'è solo questo Il resto non esiste Perché il resto esiste Mi dispiace Ci sono tantissime sfumature Che ci sono Ci sono in natura Non è che c'è bianco Nero C'è una gamma Infinita Allora Alessandra Siamo agli sgoccioli Le faccio l'ultima domanda Lei che futuro vede Per l'Italia E soprattutto dei giovani Si parla di De natalità Si parla di ragazzi Che scappano dall'Italia C'è una soluzione A questo problema O Non ci si potrà mai Mettere una doppa Io quello che vedo Con dispiacere È che nonostante tutto Ci sia Poco opportunità Per i giovani Chiedono troppo Soprattutto quando un giovane Esce dall'università Che deve fare le esperienze È difficile fare questa esperienza Perché dico Che esperienza hai fatto? Ma che esperienza ho fatto? Devo cominciare Che esperienza ho fatto? È come fosse un circolo Per farti rimanere bloccato E aspettare tantissimo Con quali prospettive? Poche prospettive Perché se tu pensi Che i contributi Quando cominci a lavorare I contributi Ce li hai A cominciare dai 30 anni in su È difficile per un ragazzo Quindi Dopo tutto quello che è successo Pensa che il covid Ha un po' cambiato Velocizzando E creando anche Alcune volte Persino opportunità di lavoro Però c'è veramente poco Ancora L'università Sforna titoli Noi abbiamo ancora I titoli Che pesano Quando poi ti devono assumere E devi fare un concorso O altro Quindi Bisognerebbe anche alleggerire Perciò se ne va Perché? Perché spesso Ci sono opportunità In altri paesi C'è più elasticità In altri paesi È vero In Italia c'è ancora Troppo Troppo rigida Per quanto riguarda Il lavoro dei giovani Perfetto Allora Diciamo che Questo primo episodio Con Alessandra Mussolini Di meglio fare attenzione Ecco come lo vuoi valutare Da 1 a 10 Quanto gli dà Allora Allora Questo secondo me È stato troppo serio Perché con Antonio Razzi Come ha detto lui È stato super giocherellore Anzi abbiamo fatto la domanda Anche ad Antonio Razzi Lui che rapporto aveva Con Silvio Berlusconi Lei invece In che rapporti era Con Silvio Berlusconi Come lo valuta? Silvio Berlusconi lo adoravo Silvio Berlusconi Silvio Berlusconi Era generoso È una persona solare Lui Riusciva A A Entrare Nelle persone Attraverso le risate Anche le barzellette Adesso c'è una seriosità Sembra sempre Che è successo Un guaio Mamma mia Che stanchezza infinita Non mi piace per niente Lo rimpiango Lo rimpiangiamo Lo rimpiangiamo Lo rimpiangiamo Un po' Anche noi ragazzi Di vent'anni Lo rimpiangiamo Nonostante non abbiamo Vissuto Era una persona generosa Io mi ricordo Quando era Natale Ti racconto questa cosa Quando era Natale Mi ricordo che io Andai da Fini Ho detto Oh Dico ma questa A Natale Ha regalato dei braccialetti Tutti d'oro Brillanti Brillantini Però brillantetti E mi ricordo ancora Stefania Prezzigiago Aveva un bracciale Stefania Tutti in brillanti Ho detto Ma te che c'hai regali È possibile mai Con la Adriana Polibortone Andammo io Sai che ha fatto Fini Disse Vabbè Andate in quel negozio Di argenteria E comprate una cornucopia Sai quelle cornucopie In finta argento Come si chiama In peltro Ma che miseria Io e Adriana Andammo ci guardammo in faccia E dice Andiamocene con Forza Italia Andiamocene con Berlusconi Che è meglio Benissimo Io comunque Da appassionato Da appassionato di vinili Ho sempre cercato Di acquistare il suo disco Non ci sono mai riuscito Il disco in giapponese È introvabile Ma lei ce l'ha una copia È top Eh lo credo È top Non una copia C'è l'originale Incredibile Ma come andò Come andò quella storia Come si trovò Andò che mia madre Come Anna Magnani Andai in Giappone E dissero Ma sa cantare No Sì sì Sa cantare Benissimo E feci questo disco Arrivai seconda Al Tokyo Music Festival Fantastico Delle cose micidiali Ho fatto Altro che Incredibile Aspetta che me l'hanno portato Guarda qua Top Assurdo Bellissimo Ma non si trova Non si trova Da nessuna parte E le copie che ci sono Vengono vendute a migliaia di euro Perché sono introvabili È introvabile Sì sì In Inghilterra ce l'hanno Come sai tu Brexit Incredibile Incredibile Va bene Grazie mille Grazie mille Alessandra Ciao Buon lavoro Grazie Meglio fare attenzione Ciao 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 Alessandra Grazie mille Grazie mille